Sarà Jimmy Sax, il famoso sassofonista della scena musicale internazionale, ad aprire Suoni in Cava Festival, nella Cava dell'Erba di Apricena. Il 17 agosto, dopo una lunga attesa, ritorna una delle kermesse storiche più famose dell'estate pugliese. Seguiranno nei quattro giorni del festival, da 17 al 20, Enzo Abitabile, Gypsy King, eccezionalmente in piazza Giovanni Paolo II ad Apricena, per abbracciare simbolicamente la città, è il gran finale con Rocco Ant, per il quale caccia il biglietto. Suoni in Cava torna dopo 12 anni in grande spolvero, segnando una tappa fondamentale nella vita di un evento che ha offerto in passato momenti musicali memorabili. La macchina organizzativa del sindaco di Apricena, Antonio Potenza, ha fatto le cose in grande, approntando percorsi, stradi e parcheggi per la cava. Abbonamenti disponibili per i concerti con prelazione per l'Abitabile Gypsy King gratuiti. Per rivivere le emozioni e le suggestioni della musica in una cava, con suoni unici e singolari, oltre allo scenario unico per i concerti.